Luce lampeggianti in azione, cavalli che vanno agli ordini dello starter, uno Zeppelin Cubar, due Zadig del Ronco, tre Clio, quattro Barnaba 3B, cinque Enoden Armand, sei Olofost, sette Zap di Gidifalco, in seconda fila otto Urbano Bargal, nove Corsano Nerofonte, dieci Asciano, 11, Belfagor FI, distanza del doppio chilometro, sul traguardo 9.900 euro. Quinta Corsa di Palermo, buonanziani sul doppio chilometro, favorito il numero 5 Enoden Armand, contro favorito Corsano Nerofonte in seconda fila e si va allo stacco, partono molto forte Barnaba 3B e Olofost, al cui interno c'è Clio, i tre affrontano così la prima piegata, prova a sfilare al comando e ci riesce Barnaba 3B con lancio notevole in 13.2, al suo esterno c'è sempre Olofost che punta a sua volta in avanti ed ha a sua volta via libera, in terza posizione resta Clio, i tre scattisti della prima fila hanno guadagnato un paio di lunghezze nei confronti di tutti gli altri concorrenti anche perché c'è un vertiginoso 27.4 per i primi 400 metri da 1.8.6 e insomma l'ha presa davvero di petto Olofost, adesso proverà Francesco Larosa Junior a prendere un po' in mano nel frattempo si trova addirittura in terza ruota Zapp di Girifalco cui sta avvenendo piuttosto male attenzione, c'è l'errore di Zadig del Ronco che provava a venire avanti, era il primo del treno esterno nel frattempo si è un po' preso in mano però da 1.12 i primi 800 metri al comando dunque Olofost ha spostato Barnaba 3B nella cui scia c'è Zeppelin-Cubar a sua volta seguito da Corsaro Nero Font, ancora più indietro invece Eno Denarmont che si trova in quarta pariglia esterna dietro Barnaba 3B, Zeppelin-Cubar e Corsaro Nero Font primo chilometro in 1.14 e 1 con al comando sempre Olofost sempre pressato da Barnaba 3B Zeppelin-Cubar è messo in un'ottima posizione di sparo, alza bandiera bianca Olofost passa dunque il numero 4 di Barnaba 3B che sta facendo una corsa davvero strepitosa con Miglio che viene raggiunto in 1.59 all'ora, siamo nelle fosse conclusive con Corsaro Nero Font a largo di tutti, non sembra molto reattivo Zeppelin-Cubar prova ad avvicinarsi a largo anche Eno Denarmont, Barnaba 3B entra ancora al comando in rete d'arrivo sotto la pressione di Corsaro Nero Font e Andrea Buzita che provano a passare arriva anche Eno Denarmont, battuta conclusiva, passa Corsaro Nero Font si avvicina Eno Denarmont ma il traguardo sembra dire Corsaro Nero Font ci prova Eno Denarmont ma è Corsaro Nero Font con uno strepitoso Andrea Buzita che ha azzeccato tutte le mosse e porta a casa la vittoria in 1.14.7 sul doppio chilometro respingendo l'affonto di Eno Denarmont un gigantesco Barnaba 3P prende il terzo posto nei confronti di Clio mentre devo dire a molto deluso dopo gara favorevole Zeppelin-Cubar dunque Corsaro Nero Font, Andrea Buzita in sediolo il training è quello di Antonino Pecoralo i colori sono del signor Giuseppe Mangione per questo figlio di oro puro Bar e recita di Azzurro ancora una splendida vittoria e la conferma di un ottimo feeling con la pista palermitana Eno Denarmont è rimasto un po' indietro al via è provato a risalire per linee esterne e alla fine arriva a meno di mezza lunghezza di Corsaro Nero Font quello che ha fatto Barnaba 3B è difficile anche da immaginare ed invece in realtà ha girato di fuori è passato, è stato battuto in zona traguardo forse, anzi senza forse un Barnaba 3B che in carriera su 2.000 metri una corsa così non l'aveva mai fatta dunque in numeri 9, 5, 4 l'ordine d'arrivo da confermare di questa splendida quinta corsa di Palermo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti